Buona serata, nuova edizione del tv giornale di Telestense, come sempre diverse le notizie anche in questo appuntamento, tra le varie parleremo di Covid-19 ma in relazione in particolare a un nuovo studio per plasma iperimmune che parte proprio dall'Emilia-Romagna, parleremo anche di lavoro, di CGL in particolare, che denuncia a Ferrara oltre 9,5 milioni di ore di CIG e poi ancora ci occuperemo del premio Stensia, oggi è stata la 56esima edizione, ci sono due vincitori ex equo e sentiremo le loro dichiarazioni. Partiamo però subito dall'aggiornamento legato al Covid-19, in provincia di Ferrara sono 16 nuovi positivi, in un caso si tratta di rientro dall'estero, esattamente dalla Francia, 14 nuovi contagi sono stati individuati in quanto contattati, anzi contatti di casi già noti di cui 10 riconducibili a focolai familiari e 3 a un focolaio lavorativo, uno infine è stato individuato con un tampone eseguito presso l'Ausl di Rovigo prima del rientro nel proprio paese di origine. Dei 16 nuovi casi su un totale di 519 tamponi refertati, 9 sono residenti a Ferrara, 4 a Terre del Reno, 1 a Cento, 1 a Bondeno ed 1 ad Argenta. Si registrano invece 5 nuovi ricoveri all'ospedale Sant'Anna di Cona, 3 nel reparto Covid positivo, 2 di Ferrara e 1 di Cento e 2 persone ricoverate nel reparto sospetti Covid, 1 di Ferrara e 1 di Argenta. 62 le persone entrate in isolamento domiciliare e 26 quelle uscite. In Emilia Romagna invece sono 99 nel complesso i nuovi casi di coronavirus di cui 54 sintomatici rilevati su oltre 10.000 tamponi e oltre 2.700 test sierologici. Nelle ultime 24 ore in regione non si registra per fortuna alcun decesso e l'età media dei nuovi casi è pari a 44 anni. Sono 16 nuovi contagi collegati a rientri dall'estero e 3 da altre regioni. Cala con un meno 1 il numero dei pazienti in terapia intensiva che in tutto ora sono 17, sono invece 200 con un più 11 i ricoverati negli altri reparti Covid. Intanto rimaniamo sempre sull'argomento con una dichiarazione importante, difficile una seconda data di SARS-CoV-2 per l'Italia. È importante però continuare ad usare le mascherine e igienizzarsi le mani seguendo tutte le regole anti-Covid che hanno portato il nostro paese ad avere meno contagi di altri. Così il professor Carlo Contini, ordinario di malattie infettive tropicale di Unifè, stamattina a Ferrara Fiere nell'ultimo giorno di consegna delle pergamene agli studenti laureati in medicina. Importante è vaccinarsi contro l'influenza, sottolinea Contini. Il rischio è che i sintomi si possano confondere con sospetti casi Covid. Sentiamo. Ti è conclusa in queste ore la settimana organizzata dall'Università di Ferrara dedicata alle laureate e che hanno conseguito il titolo nelle sessioni online da fine febbraio a oggi. Una sei giorni che si è tenuta negli spazi di Ferrara Fiera a garanzia di tutte le misure di sicurezza. Dopo tanto tempo, dopo i mesi di lockdown, che speriamo che non si ripeteranno più, ci siamo trovati per questa importantissima cerimonia di consegna delle pergamene ai ragazzi che si sono laureati in medicina e quindi questo è stato un momento di grande gioia non soltanto per i laureati che hanno ricevuto la pergamena e per i loro genitori naturalmente perché c'è stata una grande affluenza anche di parenti naturalmente ma anche per noi. C'è stata anche la partecipazione del Presidente dell'Ordine dei Medici e questo è un forte segnale per la Facoltà di Medicina. I ragazzi che si sono laureati vorrei anche spendere due parole a favore di questi ragazzi che sono laureati tantissimi, veramente oltre il 40% con la lode e questo è una grande gioia per tutti noi e per l'Università di Ferrara. Di questi alcuni hanno avuto anche la menzione. Questi ragazzi adesso cercheranno di prendere la specializzazione e quindi dovranno fare il concorso e quindi il concorso sarà il prossimo anno. Chi vorrà prendere la specializzazione e chi invece opterà per altre strade. Insomma, non è che tutti vorranno accedere alla specializzazione. Il medico oggi ha tante possibilità e tante potenzialità di lavorare. Non per questo, infatti, noi abbiamo una grandissima flusso ai test di medicina proprio perché è fortemente, diciamo, desiderata la professione medica. Molti dei nuovi medici ora si dovranno confrontare con l'emergenza coronavirus. Il lockdown al momento sta proteggendo il nostro paese, ma l'equilibrio è ancora molto fragile. Noi come Italia ci stiamo comportando benissimo rispetto alle altre nazioni che ci circondano. La maggior parte degli italiani utilizza la mascherina. Solo il 3% degli italiani non usa la mascherina. La seconda ondata, alla luce di quanto sta succedendo, non è vicina e probabilmente non arriverà. Però dobbiamo stare attenti, dobbiamo veramente mantenere tutto ciò che ci ha insegnato la pandemia fino a questo momento. Cioè, vale a dire, distanziamento interpersonale, mascherina, lavaggio delle mani e tutte le altre precauzioni. Naturalmente bisogna farlo. Non bisogna mai dimenticarsi che siamo nel contesto di una pandemia. Bisogna fare il vaccino antinfluenzale, così come bisogna fare il vaccino antipinemococcico, di cui lo stesso spesso si parla poco, per gli over 60. Intanto, come dicevamo in apertura, al via uno studio della regione per produrre il plasma iperimmune da donatori e pazienti che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2. Intanto in Emilia-Romagna più di 35.000 donatori di sangue, cioè oltre il 60%, ha detto sì allo screening sierologico. A Ferrara provincia, su 3.151 donatori testati, 27 sono risultati positivi al sierologico, pari allo 0,9%, ma nessuno è poi risultato positivo al tampone successivo. Vediamo il servizio. Al via un nuovo studio in Emilia-Romagna, voluto dalla regione, per valutare la fattibilità di un percorso di produzione di plasma, la componente liquida del sangue, da pazienti e donatori che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2, sviluppando poi gli anticorpi. L'immunoterapia passiva effettuata con l'impiego del plasma dei pazienti guariti potrebbe infatti rappresentare un approccio da tenere in considerazione nel trattamento delle infezioni da Covid-19. sulla base delle esperienze maturate anche in altri paesi. Il protocollo, predisposto dal Centro Regionale Sangue e dall'Agenzia Sanitaria, insieme all'Assessorato alle Politiche per la Salute, arruolerà su base volontaria due gruppi di persone. I pazienti che hanno sviluppato l'infezione in tempi molto recenti, precedentemente ospedalizzati o in quarantena fiduciari a domicilio e attualmente guariti, e i donatori periodici volontari di plasma che hanno contratto l'infezione in forma asintomatica individuati tra coloro che si presentano periodicamente per la feresi, cioè la donazione mirata solo di alcune componenti del sangue, come appunto il plasma. Intanto sono 35.623 i donatori di sangue Emiliano Romagnoli che dal 6 luglio e 20 settembre si sono sottoposti volontariamente allo screening sierologico voluto dalla Regione. Il primo bilancio, lo screening infatti prosegue, registra il 61% di adesioni su un numero complessivo di 58.483 donatori. Di questi, 873 sono risultati positivi al test e 4 al successivo tampone. Le donazioni risultate positive al tampone non sono state utilizzate come prevedono i rigidi protocolli di sicurezza, garanzia di donatori e trasfusi. A Ferrara e Provincia, su 3.151 donatori testati, 27 i positivi al sierologico, nessuno però al tampone successivo. Intanto, sempre in ambito di sanità, la Casa di Cura Santa Maria Maddalena di Occhiobello ha compiuto oggi 70 anni di attività. Il traguardo è stato festeggiato questa mattina con la scopertura di un busto dedicato al fondatore, il dottor Francesco Pellegrini, senza alcuna cerimonia aperta al pubblico a causa della pandemia. La Casa di Cura, oggi diventata presidio, detto il presidente della Santa Maria Maddalena e figlio del fondatore, il professor Franco Pellegrini, aprì i battenti il 27 settembre 1950, con un nucleo centrale costituito da tre piani e 560 metri quadri ciascuno e 50 posti letto. Oggi, dopo sei ampliamenti, la superficie ha raggiunto i 6.430 metri quadri, ai quali si aggiungeranno il prossimo anno i 1560 metri quadri del settimo ampliamento, che comprenderà una nuova ala con il reparto di fisioterapia, il blocco operatorio con due sale ibride e un nuovo reparto di genze. Vi ricordiamo che ulteriori dettagli li trovate sul sito telestense.it. Parliamo adesso di emergenza Covid collegata al lavoro, perché ad agosto in regione le ore di CIG sono 28,5 milioni. L'Emilia Romagna è ripartita, ma sono ancora tanti i settori in grande difficoltà. A Ferrara sono oltre 9 milioni e mezzo le ore di CIG, ma nessuno sembra interessarsi a questo tema, sottolinea Cristiano Zagatti, segretario della CGL Ferrara. Vediamo. A Ferrara si registrano oltre 9 milioni e mezzo di ore di cassa integrazione in più rispetto allo stesso periodo, da gennaio ad agosto del 2019. Un massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali, dovuto all'emergenza sanitaria che continua in modo evidente anche a Ferrara e che si registra anche nell'ultima rilevazione dei dati sulla cassa integrazione da parte dell'Inps. È un tema che non sembra interessare sufficientemente il dibattito pubblico e ancor meno quello politico e istituzionale, sottolinea Cristiano Zagatti, segretario generale della CGL di Ferrara. Sebbene la proroga della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti contenuta nel DL agosto sia stata sicuramente un fatto positivo, continua Zagatti, bisogna ricordare che proprio le imprese in maggior difficoltà termineranno la CIG Covid e il periodo di blocco dei licenziamenti a partire da metà novembre. Nel secondo trimestre del 2020, pur in presenza delle tutele garantite dagli ammortizzatori sociali e dal blocco dei licenziamenti, in Emilia Romagna sono andati persi oltre 60.000 posti di lavoro e la parte del mondo del lavoro più colpita è stata quella dei precari, dei giovani e delle donne, continua il numero uno di Piazza Verdi. Zagatti ribadisce l'esigenza di aprire un grande dibattito pubblico per trovare proposte condivise e di rilancio delle economie estense. Serve lavoro e di qualità dicono i sindacati che si chiedono se le rappresentanze datoriali siano in grado di farlo e soprattutto se esistono istituzioni pubbliche interessate alla questione. Intanto il prossimo 30 ottobre Cigelle e Cislewil presenteranno l'osservatorio sulle economie e lavoro in provincia di Ferrara, redatto da Ires Emilia Romagna. Sarà l'occasione per riaprire un indispensabile confronto, conclude Zagatti. E oggi è stata la giornata del premio estense, giunto alla 56esima edizione. Pablo Trincia e Concetto Vecchio sono i vincitori appunto di questa edizione del premio estense e il verdetto è arrivato alla sesta votazione con 20 preferenze ciascuno. Ha messo d'accordo la giuria tecnica presieduta da Guido Gentili e quella popolare. Entrambe le giurie si sono riunite questa mattina al Teatro Comunale di Ferrara a cui è seguito nel pomeriggio il conferimento dell'Aquila d'Oro. Abbiamo intervistato i due vincitori, sentiamo dunque quello che ci hanno detto. È una grande sorpresa e anche un grande onore essere qui oggi, aver vinto questo premio con questo libro su mio padre e mia madre, un libro su mio padre e mia madre. Mi ha calato dentro una storia più grande. Io racconto la storia di questo referendum che si tenne in Svizzera 50 anni fa, nel giugno del 1970. E che si proponeva di espellere dalla Svizzera 300.000 stranieri. E gli stranieri eravamo noi, eravamo noi italiani, ed erano mio padre e mia madre che erano stati chiamati negli anni del boom economico, negli primi anni 60, a far ricca la Svizzera. La Svizzera non aveva disoccupati neanche uno, eppure questo referendum raggiunge un successo straordinario. Il promotore di questo referendum, il populista svizzero James Schwarzenbach, ottiene quasi una vittoria. La cosa che ho trovato interessante, andando a ritroso, è che le parole d'ordine di allora, dei populisti di allora, sono le stesse parole d'ordine di oggi. La retorica è uguale. Il populismo, ieri come oggi, si nutre del fatto identitario, della paura dell'altro. È stato un percorso molto lungo, molto duro. Infatti l'ho condiviso con una collega, Alessia Raffanelli, assieme alla quale ci siamo addentrati in questa storia oscura che non riuscivamo molto bene a interpretare. È una storia diversa dalle altre, perché sembra quasi non rispondere ai classici canoni di causa-effetto, del rapporto causa-effetto, della logica. Ed è una storia che mette in discussione i legami familiari. Siamo abituati a pensare che i nostri legami, i legami tra noi, i nostri figli, i nostri genitori, siano indissolubili. In realtà ci accorgiamo attraverso questa storia di quanto effettivamente ci siano dei virus o esistono dei veleni che possono penetrare nelle maglie di questi legami. E quindi è stato molto duro, anche psicologicamente, affrontare una storia come questa che racconta proprio di 16 bambini allontanati dalle famiglie 20 anni fa e che non sono mai più tornati a casa. Un gruppo oggi vede questa storia con occhi diversi e prende le distanze da quello che ha raccontato 20 anni fa proprio perché dicono che gli è stato detto di dire determinate cose o comunque sono stati un po' vittime di ricordi indotti. Un altro gruppo invece continua a sostenere che tutte quelle storie, per quanto paradossali, siano vere, che siano realmente accadute e che gli psicologi che hanno avuto a che fare con loro li hanno aiutati e quindi continuano a sostenere quello che hanno sostenuto 20 anni fa. Ricordiamo che il premio Estense è stato promosso per la quarta volta da Confindustria Emilia Centro, presieduta da Gianluigi Zaina, mentre per sedere la giuria tecnica è stato il giornalista Guido Gentili. Abbiamo intervistato entrambi, sentiamo dunque i loro commenti. La 56esima edizione, quindi sono passati di qui il fiorfiore di giornalismo italiano, da Ronchei a Montanelli, eccetera, tutti sono passati su questo palco, quindi è un palco molto importante. La sfida oggi è quella di continuare a comunicare giornalismo, qualità, informazione, discussione, critica in un momento come questo, che è un po' un momento di svolta. Insomma, Covid-19 accelera dei processi, ma è chiaro che i giornali se ne vendono meno, quindi il lettore, diciamo, le penne importanti sono meno ascoltate di una volta rispetto a quelle che sono i social media, una comunicazione molto più veloce, molto più di tweet. Quindi noi siamo contenti, come Confindustria, Emilia, di portare avanti la tradizione di discussione del libero pensiero, perché poi, come la libera impresa, sono due cose completamente attaccate. È un paese libero quando è un paese che discute, che non si vergogna neanche di ascoltare gli opposti che ti permettono di fare una crescita del paese. Diciamo che ha rispecchiato anche la discussione che c'è stata quando, al momento in cui abbiamo individuato come giuria tecnica i quattro libri finalisti. È stata un'iscussione molto intensa e si era anche lì polarizzata intorno ai due libri che poi hanno vinto, eseguo, il premio Estense 2020. Questo conferma anche la bontà di questo premio che va prima con la selezione e poi con l'incontro con la giuria popolare. Quindi con il voto odierno è stato ricchissimo di spunti, con un dibattito molto intenso che ha portato poi alla fine a un eseguo che io credo che sia un segnale per i due libri che davvero hanno fatto discutere. Adesso invece una notizia di cronaca con un risvolto positivo questa volta perché si parla di un episodio avvenuto questa notte a luna e mezza quando un anziano portatore di handicap si è recato presso lo sportello Bancomat in piazza Copparo per effettuare un prelievo di denaro a contante. L'uomo non riusciva nell'operazione in quanto dalla sedia a rotelle non arrivava al dispositivo ATM. Trovandosi in difficoltà e necessitando del denaro a contante il disabile ha ritenuto giustamente di non potersi affidare a persone sconosciute e ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri tramite il numero di pronto intervento 112. Dopo qualche minuto la centrale operativa della compagnia Carabinieri di Copparo ha inviato una pattuglia del nucleo radiomobile che si trovava in zona in cui i militari hanno aiutato il cittadino a effettuare tutte le operazioni Bancomat di cui necessitava nella massima sicurezza. Adesso invece parliamo di un appuntamento che si terrà domani, seconda edizione per il TEDx Ferrara l'appuntamento era previsto sul listone in piazza Trento Trieste ma in seguito alle previsioni meteo che danno appunto pioggia per le prossime ore è stato spostato al Teatro Nuovo. Abbiamo sentito l'organizzatore, sentiamo quello che ci ha detto. Domenica 27 a partire alle ore 20.30 in piazza Ferrara al Teatro Nuovo avremo la possibilità di organizzare la seconda edizione del TEDx Ferrara. È stata un'edizione molto particolare tant'è che il tema prende appunto il nome di Age of Change dove 12 speaker ci racconteranno cosa è stato per loro e cosa sarà il cambiamento della società attuale anche in prossimità nel lungo periodo. Per chi conosce il format TEDx generalmente il programma lo fai un anno prima quindi devi anche un po' prevedere quali potrebbero essere i speaker che possono portare valore aggiunto a un anno successivo. Infatti noi abbiamo fatto un palinsesto metà ferrarese e metà extraterritoriale in modo che possiamo mettere risalto sia figure del territorio ma sia anche portare know-how, conoscenza nuova dentro la città. Tra questi sicuramente spicca la nostra presentatrice Miriam Priviati che è la nostra conferma per il secondo anno consecutivo che sarà la nostra caronte, ci accompagnerà dall'inizio fino alla fine. Inoltre tra le tante novità che abbiamo quest'anno abbiamo anche delle piccole adventures, delle attività matutine dove tra cui Miriam si occuperà di fare un corso di scrittura creativa per terapia che sarà in ufficio a Maluardi dalle 10.30 alle 11.30. Ovviamente gratuito per i partecipanti del TEDx Ferrara. E questa era la nostra ultima notizia, vi ricordo però prima di chiudere il nostro sito internet www.telestense.it anche l'invito a seguirci su Facebook, su Twitter, su YouTube e su Instagram. Vi ricordo anche che il nostro TV giornale inonda tutte le sere alle 22.30 su Sky e TV Sat, canale 518. Grazie dunque per averci seguito e a tutti l'auguri di una buona serata. Grazie a tutti.